Questa conferenza stampa di presentazione della Land Art al Furlo del 2012, la terza edizione, per noi, per me personalmente, per Antonio Sorace, che siamo i promotori della Casa degli Artisti, è stata molto importante perché, oltre ovviamente ai colleghi, i giornalisti, la radio, la carta stampata, eccetera, sono voluti venire anche di corsa a portare una loro testimonianza il presidente della provincia Matteo Ricci, l'assessore alla cultura della provincia Davide Rossi e l'assessore alla cultura del comune di Fossombrone Pari dei Prussiani. Tre testimonianze molto importanti per la Casa degli Artisti perché hanno detto che siamo un patrimonio per il territorio e visto che lavoriamo in maniera assolutamente gratuita e con moltissima gente che ci aiuta, grande volontariato culturale, il fatto che loro tre ci abbiano detto bene, andate avanti con questa iniziativa, in questo momento di crisi, dove non ci sono finanziamenti, per noi è molto importante. Quindi è stata una bella conferenza stampa, ricca, piena di spunti. La cosa più commovente è la presenza dei parenti di Loreno Sguanci, un nostro grande scultore pesarese, ma fiorentino di nascita, morto l'anno scorso, e la vedova e i figli ci hanno dato una testimonianza molto toccante di Loreno Sguanci. Grazie. 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 Grazie.